Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6 che noi apriamo tornando a parlare di quello che è accaduto negli ultimi giorni in Europa, gli attentati dell'Isis in Francia, Parigi ma anche in Belgio e nella capitale. Bruxelles continua infatti a mantenersi alta la tensione per la paura di attacchi terroristici dell'Isis dopo la strage del 13 novembre scorso a Parigi, clima teso anche tra i cittadini, strade poco affollate, massima sorveglianza anche per quanto concerne le attività economiche. Questo ci racconta la collega giornalista Chiara Morelli che si trova a Bruxelles da qualche mese per lavoro e che sta vivendo da vicino proprio in queste ore la paura e la tensione di tutti gli abitanti della capitale belga. Ascoltiamola nell'intervista che abbiamo registrato poco fa. Ieri pomeriggio c'è stata la conferenza stampa congiunta tra la procura federale e il centro della sicurezza, il centro di sicurezza, dove hanno confermato l'allerta 4 che è il massimo livello di allerta dove ipotizzano un attentato nell'immediato, mettiamola in questi termini. Il livello 4 è stato confermato per tutta la settimana, in aggiunta hanno confermato anche la chiusura delle metro per oggi e probabilmente riapriranno un po' alla volta a partire da domani e la chiusura delle scuole che c'è stata in questi due giorni è confermata anche per oggi, probabilmente per domani ci sarà la riapertura anche degli istituti scolastici. Diciamo che abbiamo vissuto la situazione più grave e più tesa domenica sera quando ci sono stati questi blitz su tutta la città, per cui lì c'era il coprifuoco, si viveva, si sentiva, si avvertiva. La stessa cosa non si vive in questi ultimi giorni, però è chiaro che siamo invitati a restare ciascuno a casa proprio per evitare di trovarci magari in situazioni piuttosto complesse e difficili da gestire. Io devo aggiungere una nota, oggi sono uscita dopo giorni di reclusione, se così si può dire, di reclusione in casa, sempre nel rispetto di quello che era l'invito delle autorità, sono uscita questa mattina per recarmi al lavoro, sempre con uno stato di apprezzione e di tensione che tutti possono immaginare. Molte strade sono completamente spopolate, altre invece si congestionano proprio perché il traffico viene canalizzato lì. E di conseguenza cercavo di filmare questi momenti. Sono stata avvicinata da un addetto alla sicurezza di uno di questi palazzi, non un militare e non un poliziotto, il quale mi ha invitato a spegnere immediatamente qualunque tipo di apparato, proprio perché in questo momento la polizia si vede che filmi anche solo dei palazzi, delle istituzioni europee o comunque dei palazzi circostanti, si insospettisce, viene, requisisce il tuo materiale e difficilmente porti a termine quello che è il tuo lavoro. In Belgio ci sono come te tanti nostri connazionali e soprattutto tanti corregionali, insomma avrei avuto modo sicuramente di parlare con qualcuno di loro che dicono che come la stanno vivendo questa situazione, a parte quello che ci hai raccontato tu. Da parte loro si vive la stessa apprezzione, si è costantemente in contatto, ci si scambia queste preoccupazioni e un po' di conforto, se così vogliamo dire, però c'è sicuramente uno scambio continuo, un canale continuo di aggiornamento, questo sì. In Belgio è abbastanza insolito vivere queste situazioni, insomma un paese che difficilmente va agli onori delle cronache, diciamo. Esatto, non ho un'esperienza pregressa qui, diciamo che sono qui da qualche mese, per cui quello che riesce a emergere dal racconto delle persone che sono qui da molti anni è proprio questo, che questa è una situazione di vera emergenza, non c'è mai stata un'allerta così forte, non c'è mai stato un pericolo così palpabile da vicino. Questa è la testimonianza da Bruxelles di Chiara Morelli in l'intervista di Alfredo Primante, noi cambiamo pagina, parliamo ancora di banche dopo il commissariamento della Carichietti, abbiamo parlato di tutto questo, dello stato economico anche della nostra regione alla luce degli ultimi accadimenti con l'economista, il professor Pino Mauro. Professor Mauro, cosa sta accadendo al sistema bancario italiano e anche cosa è accaduto nelle ultime ore alla Carichietti, alla banca Carichietti? Beh, finalmente possiamo dire che è finito tutto un periodo di incertezza che si trascinava ormai da molti anni, per cui soprattutto le banche abruzzesi e la Carichietti nella fattispecie potranno cominciare a lavorare con maggiore tranquillità e minore incertezza rispetto al passato, questo credo che sia l'aspetto più interessante da sottolineare, poi è chiaro che dal primo gennaio molte cose cambieranno per quanto riguarda le regole del salvataggio. Cosa cambia per i correntisti di Carichietti, se cambia qualcosa? No, per i correntisti non cambia assolutamente nulla, mentre per gli azionisti ovviamente sì, perché le azioni sono state azzerate. Ma perché è accaduto tutto questo? E poi le chiedo anche, quello che è accaduto alle casse di risparmio abruzzesi ha a che fare anche con l'andamento economico della regione? Indubbiamente questo periodo di crisi ha influito notevolmente, sappiamo tutti che è stata una crisi devastante, per cui molti piccoli imprenditori soprattutto non sono stati in grado di restituire i crediti che erano stati in precedenza erogati. E questo ha influito negativamente perché ha accelerato il processo di, come vi ho detto in gergo, di sofferenze. A questo si aggiunge alcuni fatti, alcuni fattori che hanno determinato il commissariamento, che ha ulteriormente appesantito il quadro complessivo. E quindi oggi, ecco perché dicevo prima, oggi le cose possono essere interpretate in maniera più ottimistica. Certo, la crisi che c'è stata in questa regione è stata forte, in alcuni grandi aggregati economici è stata più incisiva rispetto ad altre regioni, però credo che anche da questo punto di vista ci sia un segnale di ripresa non più oscillante, ma che sta diventando stabile di giorno in giorno. E cambiamo ancora pagina, parliamo di cronaca giudiziaria del processo Bussi perché è stato riascoltato questa mattina nell'Aula 8 del Tribunale di Pescara il perito della difesa Lino Prezioso nell'ambito del processo denominato Bussi Bis relativo alla mega discarica di rifiuti tossici rinvenuta nel marzo del 2007 a Bussi sul Tirino in provincia di Pescara. Il GUP Maria Carla Sacco ha chiesto una serie di chiarimenti al consulente tecnico della difesa, in particolare in merito al superamento dei livelli consentiti di cloroformio nei campioni di acqua esaminati. Prezioso ha poi spiegato che le analisi sono state effettuate da due laboratori differenti e che in un caso sono stati riscontrati degli sforamenti, mentre nell'altro i valori risultavano entro la norma. Nel procedimento sono imputati Giorgio D'Ambrosio all'epoca dei fatti presidente dell'ATO, Bruno Catena all'epoca presidente dell'ACA, Bartolomeo Di Giovanni come direttore generale dell'ACA, Lorenzo Livello in qualità di direttore tecnico dell'ACA e Roberto Rongione responsabile del servizio Sian della ASL di Pescara. Il 16 dicembre prossimo inizierà la discussione, mentre il 22 dicembre sarà emessa la sentenza. E siamo ancora alla cronaca giudiziaria, è stata rinviata al 3 maggio del 2016 per il deposito delle memorie istruttorie e per la valutazione dell'eccezione presentata dalla difesa, l'udienza della causa intentata dal presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, nei confronti del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, al centro di una richiesta di risarcimento, danni da 200 mila euro per diffamazione. A mezzo stampa vediamo il servizio di Francesca Romana Tresti. Prima udienza al Tribunale di Pescara per il caso del risarcimento, chiesto dal governatore D'Alfonso al consigliere regionale Domenico Pettinari. Il caso è quello dell'edificio dell'ASL di via Rigopiano, che già tante polemiche aveva suscitato. Domenico Pettinari, circondato da sostenitori e colleghi, non mostra debolezze. Piena fiducia nella magistratura, come ho sempre avuto nella mia vita. Il presidente D'Alfonso, ricordo che in aula ha detto che è la prima volta in vita sua che era stato costretto a citare in giudizio un avversario politico. Sono contento e soddisfatto per i grandi attestati di stima e di fiducia, di solidarietà da parte dei cittadini. Oggi qui ci sono decine e decine di cittadini, questo mi fa piacere e nulla aspettiamo il verdetto della magistratura. A difendere il grillino è l'avvocato Donatella Rossi. Il governatore D'Alfonso invece si è affidato a Carla Tiboni. La prima udienza finisce con un rinvio al 3 maggio per ammissione dei mezzi istruttori. A sostenere in aula Domenico Pettinari c'è anche la consigliera regionale Sara Marcozzi, che commenta così l'azione legale messa in campo dal governatore D'Alfonso. Il Movimento 5 Stelle pensa che questo è il presidente di regione più debole della storia d'Abruzzo. Se un presidente di regione non è in grado di rispondere alle domande che un consigliere regionale fa nello svolgimento delle sue funzioni e prerogative ed è costretto a ricorrere alle aule di un tribunale, questo è solo un segno di grande debolezza del presidente D'Alfonso e o di grande forza del Movimento 5 Stelle, che evidentemente è l'unica vera opposizione mai esistita. Quella di chi ha fatto Pettinari è una domanda che si sarebbero fatti tutti i cittadini, è una domanda legittima perché se un palazzo è stato acquistato due anni fa a 900 mila euro, la regione Abruzzo lo ha acquistato a 3 milioni di euro. I cittadini se la sarebbero fatta questa domanda. Siamo alla politica, il progetto di legge per la grande Pescara proda in consiglio regionale nascerebbe con la fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Filippo Tronca. Nuova Pescara, ovvero un nuovo grande comune che nascerà dalla fusione tra Montesilvano, Spoltore e appunto Pescara. Questo è il piatto forte del consiglio regionale di oggi, con l'approdo in aula del provvedimento, a firma del consigliere del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante. Dopo 17 mesi dalla proclamazione del risultato del referendum che registrò una partecipazione plebiscitaria dei cittadini dei tre comuni e con la vittoria netta del fronte del sì. Ma a due giorni anche dal no secco del comune di Spoltore che teme di essere fagocitato nel processo di aggregazione. Difenda a spada tratta, come è ovvio, il provvedimento mercante. La fusione spiega la vigilia del consiglio porterà taglia alla spesa pubblica dei tre comuni, riduzione di tasse e tributi, risanamento dei bilanci comunali, nascerà un polo metropolitano capace di competere con le grandi città della dorsiala adriatica. La PDL è stata nei cassetti per parecchi mesi, si è arenata in commissione forse volutamente da parte della maggioranza, oggi arriva in consiglio e ci sarà una resa dei conti, vedremo se effettivamente questa maggioranza e D'Alfonso rispetteranno quella che è stata la volontà popolare espressa il 25 maggio del 2014. Chiamate la legge mercante Sospiri, tiene a sottolineare il capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, appunto, che ha ritirato un suo provvedimento molto simile ed è pronto a votare quello del 5 Stelle. Ora, noi riteniamo che per rispondere alle sfide su base europea e nazionale occorra una dimensione metropolitana. Questo è per il master plan, questo è per i fondi per le opere pubbliche, e quindi riteniamo che questo processo sia rivolto al futuro. Ma come la prendono gli esponenti di maggioranza in particolare espressione del territorio aquilano, la nascita di una grande città metropolitana sulla costa? Nessun problema, sottolinea il vicepresidente di Giunta Giovanni Lolli, aquilano e del PD, ma con dei ma che potrebbero anticipare un iter non certo liscio in aula del provvedimento. Non ho mai nessun pregiudizio, meno che meno verso Pescara, che è l'unica città abruzzese veramente non campanilista, nel senso che ai pescaresi proprio veramente non gliene frega niente del campanile. Ora, non avere una metropoli, secondo qualcuno può essere un limite, secondo qualche ad un altro, io appartengo a questo qualche ad un altro, invece è una cosa positiva. Non è vero che la metropoli determinano un miglioramento della qualità della vita, noi siamo una regione particolare e io manterrei questa particolarità. E ora parliamo di un'iniziativa dell'Asso Balneari, perché resta la preoccupazione nel mondo delle imprese del settore turistico balneare per l'applicazione della direttiva Bolkstein, che obbliga la messa a gara delle concessioni demaniali. Nella sede di Confindustria, Pescara se ne è discusso per tentare di trovare una soluzione che riesca a salvaguardare gli investimenti fatti dagli attuali operatori. Analizzare le problematiche che investono il settore alla luce dei cambiamenti della legge. E' questo il tema dell'incontro che il presidente nazionale di Asso Balneari, Fabrizio Licordari, ha affrontato con gli operatori del settore abruzzesi, nel corso di un incontro che si è tenuto ieri pomeriggio nella sede di Confindustria, Pescara, ospite, tra gli altri, il primo firmatario del DDL sull'alienazione dei beni immobili del demanio marittimo, Massimo Baldini, ex senatore del PDL. Noi naturalmente cerchiamo di fare in modo che la Bolkstein si arresti, che a un certo punto venga cancellata per quanto riguarda le imprese balneari, soprattutto per quanto riguarda la certezza di queste aziende nella prospettiva del lavoro, dell'impegno, dell'innovazione e così via. Noi siamo fortemente interessati naturalmente a tutelare queste aziende in quanto riteniamo che costituiscono l'asse portante dell'economia turistica nazionale. A preoccupare di più i balneatori è la possibilità che la messa a gara di evidenza pubblica europea delle concessioni spiani la strada a grandi gruppi del settore turistico contro i quali sarebbe difficile competere. Per questo anche la regione Abruzzo chiede ad Europa e il governo italiano una proroga delle concessioni esistenti, come accaduto in altri paesi europei, che consenta agli operatori il rientro dagli investimenti effettuati. Noi come regione Abruzzo ci siamo appellati anche al governo nazionale che si porti comunque a fare subito un doppio binario che sarebbe per coloro i quali che dovranno già lavorare sul campo della balneazione di dare una proroga che possa essere minima di 30 anni e nel frattempo adottare la basentia Bolksen su quelli che sono i nuovi stabilimenti balneari. Stiamo notando che c'è una disparità di trattamento tra i paesi europei. La Spagna ha ottenuto per le concessioni che scadranno il 2018 un periodo di proroga da un minimo di 30 a un massimo di 75 anni per lo stesso tipo e la stessa qualità di impresa come la nostra e il Portogallo ha il diritto di insistenza, cioè una norma che l'Italia invece in nome proprio delle imposizioni arrivate da Bruxelles ha dovuto abrogare. E ora parliamo di istruzione perché è stato firmato oggi il protocollo d'intesa fra Confindustria e Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione di percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. Armonizzare anche in Abruzzo il sistema scuola e il sistema impresa con percorsi di formazione nei luoghi di lavoro e di produzione di 400 ore nel triennio per istituti tecnici e professionali e di 200 ore per i licei statali. Questo è il contenuto saliente del protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Ernesto Pellecchia e dal presidente di Confindustria Agostino Ballone. L'obiettivo di questa alternanza tra banco di scuola e apprendistato in azienda previsto dalla legge 107 del 2015, ovvero della buona scuola, è stato sottolineato più volte e rappresenterà un'opportunità per individuare talenti che potranno integrarsi negli organici aziendali e servirà a preparare una generazione di giovani che avranno meno difficoltà a trovare lavoro o terminati gli studi. Del resto l'integrazione della formazione scolastica teorica con la pratica delle aziende, che qui in Italia è ancora la fase embrionale, in Germania per fare solo un esempio è un percorso consolidato da mezzo secolo e contribuisce in modo determinante, confermano molti studi, alla solidità e competitività del sistema produttivo tedesco. C'è una maggiore attenzione da parte del legislatore verso queste esperienze di alternanza scuola-lavoro e conseguentemente da parte delle scuole c'è un maggior onere dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista degli attempimenti, ma anche dal punto di vista delle opportunità, perché attraverso questa valorizzazione di questi percorsi si riesce a sviluppare ulteriormente il soggetto forte in modo più efficace quello che noi definiamo rapporto scuola-mondo del lavoro. Le aziende andranno a stipulare convenzioni dirette sulla base di questo protocollo con i singoli istituti e quindi si andrà a fissare quelli che saranno i momenti di formazione dei ragazzi. Quindi questo è un po' in sostanza, come sa, la formazione avviene sui tre cicli scolastici, dalle terze, quarte e quinte. Quest'anno si parte con le classi delle terze superiori naturalmente con un monte ore di 200 ore al ragazzo. Quindi insomma sono anche orari impegnativi per cui c'è da lavorarci sopra. Ora parliamo di trasporti perché a Francavilla al mare verranno posizionati sui binari degli appositi attenuatori di rumore per ridurre l'impatto acustico al passaggio dei treni. I lavori costeranno circa 400 mila euro e interesseranno un tracciato ferroviario di 600 metri. Con orgoglio abbiamo detto che saremo la prima città in Italia ad avere questo nuovo sistema che verrà sperimentato qui inizialmente per un tratto solo di 600 metri ma se questo sistema funziona le ferrovie ci hanno già garantito che copriranno l'intero territorio. È un sistema che non dà nessun impatto visivo perché viene posto sulle rotaie e riesce, almeno così ci si auspica, riesce ad abbattere sia il rumore che le vibrazioni del passaggio del treno di una buona metà, di 4 decibel che corrispondono alla metà del rumore che noi percepiamo. È un sistema che ha brevettato un abruzzese e questo ci rende ancora più orgogliosi e quindi siamo stati qui ad annunciarlo alla città intera con la presenza dell'ingegner Stefano Morellina che è responsabile di RFI. Adesso abbiamo avviato la fase di sperimentazione che interessa un tratto di 600 metri di binario all'interno della città di Francavilla e abbiamo avviato la fase dei rilievi che dovrebbe durare circa tre mesi. Come investimento è un investimento importante perché le ferrovie hanno creduto in questa progettazione in questa sperimentazione hanno investito 450 mila euro. Se la sperimentazione dovesse dare risultati positivi questi ammortizzatori verranno estesi a tutto il territorio di Francavilla con un investimento veramente molto molto forte. Cambiamo ancora argomento. I 27 sindaci del territorio Terramano che fanno parte del Consorzio BIM sono stati nuovamente chiamati a pronunciarsi sull'eventuale scioglimento del Consorzio. Elisa Leuzzo. Su richiesta del Presidente della Seconda Commissione il consigliere Riccardo Mercante del Movimento 5 Stelle ha espresso nuovamente ai sindaci del territorio Terramano la proposta di sciogliere il Consorzio BIM. Il rappresentante Terramano Lemiciclo avrebbe preso spunto da una legge del 2011 che chiedeva ai comuni di pronunciarsi sul mantenimento in vita dei consorsi. Quasi nessun consiglio comunale si è pronunciato e questo per Mercante avrebbe il valore di una sorta di silenzio assenso alla soppressione. Ma i 27 sindaci convocati hanno nuovamente espresso all'unanimità il loro no alla soppressione dell'ente durante l'incontro di ieri mattina con il Presidente Franco Iachetti. Oramai sono vaccinato sono abituato che ogni 2-3 anni si ritorna un po' la carica prima è successa la legge 25 del 2011 e non successe niente tutta l'unanimità fu riconfermato e no allo scioglimento. Adesso si sta ritornando un'altra volta su questa situazione sto aspettando allora che cosa abbiamo fatto noi ieri abbiamo fatto una riunione con tutti i sindaci per capire che cosa vogliono fare ma sia ben chiare per chi mi sta ascoltando in questo momento il Consorzio Bimbo Vomano Tordino può essere sciolto in qualsiasi momento dell'anno basta il 50 più uno dei comuni siccome sto toccando con mano invece c'è la volontà al di là del colore politico di mantenere questo end perché questo end è utile il mercante parla di spengere il review ma qui non c'è questione di spengere il review in quanto a noi i soldi ce li dà l'Enel al Bimbo Vomano Tordino non percepisce né dallo Stato né dalla regione né dai comuni quindi viviamo con l'Enel distribuzione ricordo che quando entrai come presidente ingassevamo circa un milione e tre rotti adesso ne ingassiamo due il fiore all'occhiello e lo ripeto noi siamo stati capaci di ingassare 4 milioni e 7 riversate direttamente dai comuni per quanto riguarda l'Oralici che adesso è l'Imo il consorzio sempre a detta dei sindaci ha costi talmente bassi che la sua eliminazione non porterebbe alcun significativo risparmio andiamo avanti con il nostro telegiornale al comune di Pescara è stato presentato il progetto evento del centro Ananche contro la violenza sulle donne dal titolo Viola siamo tutte noi in occasione della giornata contro la violenza di genere La musica come strumento di solidarietà che sposa cause importanti come quella contro la violenza di genere quella a favore della dignità umana quella sull'autismo e sul migrante a sostenere l'iniziativa dell'associazione di Martin e delle associazioni di solidarietà c'è il comune di Pescara che invita a partecipare tutti coloro che vogliono farsi parte attiva dei progetti in campo Per la giornata internazionale contro la violenza sulla donna il 25 abbiamo un incontro istituzionale in provincia organizzato da Danche dove verranno dati i dati nazionali appunto su questo fenomeno e il pomeriggio come assessorato abbiamo organizzato un evento che abbiamo chiamato il Tè dell'amicizia dove le associazioni che vorranno insomma essere partecipi di questo momento di solidarietà ma soprattutto di ricostruzione di una rete anche appunto di amicizie tra coloro che sono sul territorio tutti i giorni A conclusione di una serie di iniziative che sono state messe in campo appunto in occasione di questo evento c'è il concerto del 27 novembre il concerto è a sostegno di un progetto concreto l'apertura della Casa Viola una casa rifugio per donne e ragazzi bambini bambine che appunto si trovino in una situazione di pericolo quindi in cui l'incolumità psicofisica sia a rischio l'esigenza del territorio è quella appunto in provincia di Pescara sarebbe la prima struttura con queste caratteristiche è un tassello prezioso ed è una risposta concreta cioè un coinvolgimento non solo di un'associazione ma di un raccordo costante tra l'istituzione e il privato sociale e ora parliamo di Gabriele D'Annunzio perché grandi novità sono state annunciate questa mattina al Media Museum di Pescara in vista del 42esimo convegno del Centro Studi D'Annunziani a breve verrà anche inaugurato il sito internet con tutti i carteggi del VAT noi stiamo cercando di riportare o portare D'Annunzio nelle scuole e portare le scuole anche da noi perché portare D'Annunzio nelle scuole perché abbiamo intitolato questo 42esimo convegno D'Annunzio e la lingua italiana ad oggi tutti sanno che D'Annunzio è stato un grande innovatore ma non sanno che certe parole soprattutto i ragazzi come per esempio Scudetto oppure Travezino o Velivolo o Folle Oceaniche eccetera sono parole neologismi coniati da Gabriele D'Annunzio presenteremo un concorso sempre per coinvolgere di più i giovani delle scuole le parole di D'Annunzio chiederemo a tutti i ragazzi delle scuole secondarie operanti in Italia e all'estero di scrivere un breve testo di 500 parole su un neologismo su una parola D'Annunziano devono commentarla e noi poi una giuria assegnerà dei premi sono più di 2 milioni i ragazzi che studiano nelle scuole secondarie e quindi questo sarà importante per promuovere la figura e l'opera di D'Annunzio nelle scuole presenteremo il sito web del Centro Nazionale di Studi D'Annunziani dove stiamo raccogliendo tutti gli atti le relazioni di tutti gli atti di 41 42 convegni sono più di 10 mila pagine e quindi da ogni parte del mondo a partire da diciamo tra non molto potranno consultare le relazioni di grandissimi studiosi di D'Annunzio relazioni che non si trovano più perché nemmeno gli atti sono spesso rintracciabili nel 2016 faremo una quindicina di incontri che si intitolano D'Annunzio e gli altri cioè ogni volta avremo una conversazione intervista con un personaggio che si è occupato di aspetti legati ad Annunzio quindi D'Annunzio Mussolini D'Annunzio Pirandello D'Annunzio Antonino Libero un pescarese D'Annunzio le signore della moda insomma sono tematiche che spaziano in varie discipline e ora noi andiamo a Teramo per parlare di un'iniziativa che si svolgerà dal 27 al 29 novembre si tratta del Teramo Black Friday il Black Friday è un giorno importante dove nei paesi dove questo è diventato una tradizione è un indicatore per la guida diciamo anche per gli esercenti per quanto riguarda il consumo perché dà un indicatore di quanto ci sia predisposizione nella fase presaldi del consumatore a comprare ad acquistare quale merce acquistare in questa fase e quindi credo che per questo sia importante io sono felice perché soprattutto i commercianti e gli esercenti fanno squadra noi in questo li appoggiamo e li appoggeremo sempre perché ci sembra importante riportare l'attenzione su quello che è il nostro motore principale il motore della nostra economia quanti sono i commercianti che hanno aderito a questa iniziativa? Siamo oltre 120 e qui devo dire che va fatto davvero un ringraziamento come dicevo poco fa a tutti i colleghi i quali sono stati sollecitati e hanno aderito in maniera massiccia un invito potrebbe essere rivolto anche fuori al Terramano? Assolutamente sì proprio perché poi la comunicazione è stata fatta su tutta la provincia e soprattutto regione soprattutto sulla costa proprio perché ci auguriamo che siano in tanti a venire a Terramo considerando poi la scontistica devo dire molto impegnativa ma molto importante anche per i clienti le proposte ricordiamolo sono di oltre 100 punti vendita scontate fino al 30% esatto ogni negozio indicherà la propria scontistica partiamo venerdì 27 tra l'altro con l'illuminazione accenderemo le illuminazioni natalizie che questo è la prima volta che succede poi avremo il sabato apertura totale fino alle 24 con delle band che gireranno per la città e poi domenica avremo degli artisti di strada e saremo aperti anche la domenica e siamo allo sport parliamo del Pescara che sarà impegnato venerdì prossimo alle 21 al Manuzzi di Cesena in forse l'utilizzo del portiere Fiorillo per lo scontro con il compagno di squadra Fornasier corso nella gara con Lavellino infatti il portiere Biancazzurro ha riportato una frattura composta del setto nasale in preallarme cea resti ieri doppia seduta per i Biancazzurri assenti benali per un leggero affaticamento muscolare e Memushai per un problema alla schiena ascoltiamo ora proprio il giocatore albanese leader della formazione Biancazzurra Un gran gol una delle migliori partite raccontaci questo gol palla imprendibile per il portiere Sì è stato è stato un bel gol e comunque anche anche quello di Gianluca ma sono contento ecco perché finalmente mi sono sbloccato poi fondamentale anche per la partita perché sembrava chiusa invece poi purtroppo abbiamo subito un altro un altro gol però sono felice per la vittoria e per il gol vittoria meritata e questo è il nostro gioco soprattutto quando giochiamo in casa dove abbiamo anche spazi siamo bravi a crearli e poi con la nostra qualità penso possiamo mettere in difficoltà tutte le squadre noi giochiamo bene magari abbiamo concesso qualcosa oggi quando forse ci siamo forse un po' rilassati sul fatto che eravamo sopra di due gol e abbiamo preso il secondo gol però ci sta e ora bisogna continuare a lavorare e basta una squadra che sta diventando sempre più matura comunque ma quello sì anche quest'anno se vai a vedere al minimo siamo una ventina di nuovi e giustamente ci vuole il tempo e piano piano stiamo crescendo sotto tutti gli aspetti nell'intervista di Enrico Rocchi anche il capitano del Pescara Memusciai ma prima avevamo ascoltato Valerio Verre noi parliamo ora del Lanciano nel servizio di Andrea Costantini e andiamo a vedere qual è la situazione in casa rossonera alla vigilia della gara casalinga con il Latina è un momento di ampie riflessioni in casa Virtus Lanciano la scintilla che avrebbe dovuto ridare fiato alla classifica e feducia all'ambiente non è ancora scoccata e allora ci si interroga su quello che c'è da fare per invertire la rotta ben sapendo che tempo ce n'è ancora sarà però importante accelerare il passo nel prossimo mese per poi affidarsi ad un mercato di gennaio col quale apportare quei correttivi necessari a giocare una seconda parte della stagione di buon profilo e accaparrarsi così la salvezza invertendo così il trend delle ultime due stagioni quando la Virtus ha fatto meglio nella prima parte del campionato che nella seconda ma arrivando a lottare per un obiettivo diverso i playoff semmai ricalcando le orme della prima stagione con Gautieri in panchina quando un'ottima seconda parte portò alla salvezza passando da alcune mosse del mercato di gennaio rivelatesi decisive su tutte l'acquisto di Antonio Piccolo ecco servirebbe una mossa di questo tipo per risolvere il problema dell'anemia del gol Ferrari si è spento dopo il buon avvio Lanini, Di Francesco e Padovan sono stati quasi nulli sotto questo profilo solo Marilungo ha una forte attenuante un anno di inattività per il resto i nuovi di questa stagione hanno deluso e a tirare la carretta è stata la vecchia guardia i soliti noti per i nuovi le prove da pelle iniziano a scarseggiare ecco perché da sabato prossimo al Biondi contro il Latina si richiede una brusca inversione di tendenza la partita assume contorni delicati da non sbagliare perché la squadra di Somma è comunque avversario alla portata e i tre punti sono quanto mai necessari per iniziare la risalita il tecnico da Versa spera di avere a disposizione Nicola Ferrari e Federico Amenta che hanno saltato le ultime due partite ma che ieri hanno iniziato un programma di lavoro differenziato che potrebbe portarli al pieno recupero a disposizione saranno anche Marilungo tenuto fuori precauzionalmente a Chiavari e Di Cecco che nella stessa gara dopo aver segnato è uscito a inizio di ripresa per un acciacco che non sembra destare preoccupazione da Versa proseguirà con il modulo ad albero di Natale che ha denotato progressi i quali però andranno tradotti nella terza vittoria in campionato Ed è tutto così per la prima edizione del TG6 vi ricordo la seconda alle 19 grazie e buon proseguimento di giornata Grazie a tutti